vediamo nel dettaglio la realizzazione della lenza scorrevole che come vi ho anticipato è estremamente semplice innanzitutto questo piccolo ma essenziale accessorio è uno sgancio un piccolo attacco scorrevole che andiamo ad inserire direttamente sulla nostra lenza madre dopodiché una piccola perlina in gomma che servirà da paracolpi quindi andrà a salvaguardare il nodo che andremo a fare sulla girella anch'essa libera di scorrere sulla lenza madre dopodiché per concludere praticamente la nostra montatura una girella anche qui di dimensioni abbastanza generose per cui un semplicissimo nodo giriamo intorno 5 o 6 volte passiamo dentro 5 o 6 volte è sufficiente perché il filo è molto grande serriamo il nodo togliamo l'eccedenza e possiamo praticamente ritenere completata la nostra montatura al nostro sgancio rapido andremo ad attaccare un piombo un piombo da tenuta in questo caso uno sporten da 150 grammi per cui un piombo che comunque dovrà scaturire abbastanza resistenza e alla girellina andremo ad attaccare il terminale e